ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di untarned siamo qui di nuovo con il grande marco 88 barbucci guarda che barbucci lascio in pace marco è già volato qua nel faro no andiamo un'occhiata andiamo un'occhiata a vedere se c'è qualcosa arrivo prima io scommetto che non ci sarà niente è probabile magari ci guadagneremo solo delle gambe rotte quello non è un bel premio allora sono in cima a momenti che devo giù ah ma c'è della gente qua salve ciao sì non siamo su un server nostro siamo su un server pubblico perché avevamo scendi dritto ok avevo dei problemi di tempo e quindi per registrare stare il server ci va sempre un casino assurdo abbiamo trovato questo server qua francese a cui in me non pingava troppo perché solitamente ho sempre una media di tipo 180 di ping con i server di untarned che ci sono e di conseguenza ah ma qua c'è no è uno di quei libri finti che tu credi che sia qualcosa invece non è niente oh andiamocene allora qua ci sono le macchine e ma saranno di quei tipi magari chi se ne frega ne prendiamo uno ma poverini c'è una città qua vicino andiamo alla città ecco questa oh no marco vedo delle cose rosse non è la notte degli zombie assassini vero che è nessuno io ho preso una macchina ah vediamo se mi puoi uccidere anche se è pv ah no perché hanno le luci posteriori le macchine vieni vai investimi entri entra dai vai ma accendi i fari c'è un benzinaio qua vicino ma accendi i fari non si vede niente ma tanto non ci sarà la cosa di benzina non troveremo la tannica di sicuro scendi c'è qualcuno che ci picchia dov'è perfetto e non ho paura di che c'è? ora è pa qualche cosa pur remonte ma bar due senti no niente i'm sorry ma guarda c'è un sacco di gente qua in giro ma c'è un sacco di gente qua come ciao ma ehi ma mi sta facendo manovra addosso sto tizio ciao sofi sei bellissimo ti tiro un pugno in faccia aia no hai iniziato a picchiarmi a sua volta sei tu questo vero Marco perfetto guardiamo qua dentro perchè non c'era ancora nessuno che stava guardando in sta casa ah no è vero che ci sono anche i vestiti che si deteriorano adesso boh però ho trovato anche una corda non so cosa fare una corda uh una mazza da baseball però è un pezzi praticamente distrutta ma wait qualcosa che fa il fumo e basta no che fa il colore e basta questa è una lavatrice ma secondo me non so se troviamo qualcosa in sta casa eh ah ho trovato un binocolo invece haha lord no dico in questa città perchè c'è un sacco di gente che sta girando da ste parti zombie ti faccio una sorpresa no aia mi ha fatto un mare cane sto zombie c'è uno che ha raccimolato un mob dei mobili cos'è che ha raccimolato oh c'è un italiano no non ho la torcia infatti non ci vedo un belino sarà genovese io ho disabilità polis vest eh ma sto trovando un fracco di loot qua non stanno facendo chissà che cosa perché ha messo delle trappole qua se ci passo mi faccio male no per fortuna cos'è questo ma io sto riempiendo l'inventare probabilmente di come si apriva l'inventare ah con tab già oh prisoner top posso metterlo al posto di quella 17% buttiamola via questo cos'è sta roba no via buttiamo via anche questa buttiamo via anche questa chi è torcia trovata al rio ciao grazie bravo cos'è questo affare più luminescente ah è uno di quegli affari la che ho buttato appena io prima ragazzi poi magari faremo anche una serie un pochettino più più seria una serie più seria che dici marco solo che dobbiamo capire un attimo come gestirla anche con saints row 4 che a me personalmente sta piacendo un sacco come serie forse a voi un po' meno perché effettivamente è meno è meno interattiva forse che dici marco marco l'abbiamo perso sono solo che è successo è caduta la certa vocale no non sta semplicemente più parlando è tipo bu scusami se ti ho lasciato parlare da solo ma esiste ancora l'ora marco questo è un tizio baricato qua sopra ma ti stavo parlando da ore tu non mi dici niente uh guarda questo qua c'ha un sacco di roba qua in casa si ma stai facendo un monologo del tipo uh 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 ma tu non dici niente questi tizio ha un sacco di roba ma c'ha pure il generatore ma guarda che bella casa che si fa a tutto questo tipo c'ha due secchi a pelo cos'è questo? ha un martello si ma mi fa schifo sta zona andiamo qui xpvs si certo bravo bimbo ma non sapete come si risponde io me ne sto andando dalla te no comunque stavo dicendo marco che si potrebbe fare una serie seria ma bisogna capire come gestirla con saint throw ecco con saint throw perchè oh guarda c'è della gente che gira giorgio 9898 è piena di gente che sta luttando quando siamo entrati noi c'erano tipo 8 persone connesse adesso c'è tipo tutto il mondo qua in questa città sta libera io non me la ricordo due scatole baseball bat tu cosa gli diresti marco se facessimo un'altra serie serie di suon tarned si però no è così è carino ma mi prego quell'ambulanza se non c'è nessuno non mi interessa che sto pregando l'ambulanza 1 probabilmente nella battaglia di più io la prego ma hai sentito quello che ho detto marco sto parlando da solo sto cercando di trovare qualcosa 0% di dobbiamo crearci il server personale perchè troppa gente noi due appunto dobbiamo essere in due nel server no più costa gente eh se ci va un attimo di tempo semplicemente da prepararlo da ostarlo da andarci regolarmente che non cambi tutto ogni singola volta dobbiamo anche vedere se per caso c'è è cambiato qualche cosa magari è adesso più semplice creare un server non lo so l'ultima volta che l'avevamo creato ci volevamo una vita e mezza infatti adesso abbiamo provato a riaprirlo ma c'è sempre tutto da rivedere da capo sempre tutto da cambiare le porte aprire le porte chiudere le porte è un casino unico infatti stamattina io volevo registrare un sacco di roba e quindi ho detto marco senti è meglio che prendiamo qualcosa in fretta e ci muoviamo perchè se no non registro più un Kaiser di niente e e voi non avete poi niente da vedere per tutto l'anno ma ora c'è un zombetto carino caruccio morirci morirci ti ho detto di morirci cosa mi hai droppato? un binocolo ma ce l'ho già il binocolo che case ha messo e c'è il binocolo vieni qua vieni qua c'è uno che mi sta prendendo da accettare oddio mi ha tirato una lag spike assurda oddio mi ha tirato una lag spike assurda se rompi non mi sta ma c'è adesso ho qualcosa da dire c'è uno che mi sta facendo i gratini alla schiena con l'accetta ok non mi sembra molto simpatico no no non credo ma magari è semplicemente attirato fisicamente da te dice Marco 88 eh ma io non voglio accettare sexy sei ancora lì cioè voi non potete capire quanto è sexy la persona di Marco vista in un gioco tipo con risoluzione 600x800 ci conviene andarcene sai sono passati già dieci minuti non abbiamo fatto praticamente un kaiser a parte tipo picchiare degli zombie a caso io sto ho perso tra l'altro il 70% della vita dove sei? carissimo binocchio dove sei? sto andando a trovare una zona senza se sti schibito altri giocatori dove sei? dove sei? dove sei? ciao bello sono qua a cercare roba sono quasi morto ho l'1% di vita lol ma cosa c'è di roba? non c'è più niente ho saccheggiato praticamente ogni minimo cosa visibile ah no invece c'è del succo berrò del succo anche se non mi serva niente è dato un percetto di vita tra un attimo muoio allora ragazzi buongiorno a tutti questo è una lavagna e oggi faremo la tabellina del 691 ecco 691 per 0 0 691 per 1 691 691 per 2 come fa marco 88 e marco 88 per 14 eh? pierino rispondi sto cercando roba ma questi mi continuano questo che mi accetta mi continua a cercare ma lascialo perdere tanto io adesso muoio ciao zombie voglio morire ora ora ma no l'ho ucciso io non l'ho ucciso ma ma mi faccio un sacco di zombie tu di no di zombie c'è uno che corre a gattoni che ridere sii sono morto lol che ridere ciao ciao dove sono? ah beh sto giro non sono tanto lontano sono tipo dove ero prima no c'è una base militare dove c'è? sono finito sono una base militare ma tu dove cacchio sei? sono morto ah sei morto eh ma te l'ho detto che stavo morendo che avevo un percento di vita se solo mi ascoltassi ogni tanto sono una base militare vicino alla città dove sei non hai porto se vuoi fare un salt chi è? oddio muorici male muorici male muorici 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 mi ha tolto mi ha preso un achievement survival guai ho lanciato un cubo blu addosso a un tizio così proprio a caso dai saliamo qua sopra e vediamo se c'è qualcosa ah ma no qua c'è la base di qualcuno c'è del filo spinato si ma tutto qua è la base ma sei arrivato alla base anche tu? dove sei? no tutto qua tutta la zona è la base non c'è 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 eh vabbè Marco ho sanguinamento tra un attimo muoio di nuovo e lo so ma il tuo problema continua sanguinata no adesso raccolgo un coltello e muorirò con un coltello in mano BANDAI tanto ho fatto fuori mille, mille, mille sono tutto schiantati sembrava che fossi morto perché mi sono inciampato sono vicino alla farm però la fattoria degli animali la fattoria quella di George Orwell sai ok ah qua ci sono delle bacche vediamo se sono allucinogene o cosa no sono buone piccato vabbè me le mangio tutte vabbè è bella che è questa fattoria adesso le ho rifatte molto più sexy ma non ho le braccia più lunghe si mi ricordo ok ho già metà della vita e sono appena rispawnato ah devo mettere nulla ok eh ma quanti kaiser ce n'è qua c'è c'è è la festa degli zombie agricoltori via 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 Sono morto, boh, vi rivedrò il video e cercherò di capire come è successo, che mi ha colpito quando era tipo a mezzo chilometro di distanza da me Credo l'unica cosa sia che stavo laggando, a bestia proprio Finalmente me ne posso andare da questo tipo di ghi Eh? No, ho trovato una macchina con un po' di benzina Bravo, ma scusa non eravamo arrivati con una macchina con della benzina Ma io sono tutto da un'altra parte, che ne sai di dove sono io? Sono morto tre volte nel frattempo Sono al porto, adesso vado a picchiare uno zombie, sempre se non muoio Sto andando a rispondere dei contadini Ok, perfetto Non sono morto, uh, ho trovato che cos'è questa, è una mazza da golf Che però ha tipo 10% di utilizzo All'abordato! No, dove? Ah, eccolo Vediamo se questa è la casa di quel punto Ma come fa a picchiarmi dalla sotto? È tipo quattro... E si è bugato Che... Oddio È tipo saltato, boh Così, a casa Ma mi ha dato sanguinamento Ma dimmi te se può uno scemo del Kaiser così darmi sanguinamento e devi morire Secondo me hanno cambiato che danno troppo spesso sanguinamento Cioè, uno che ha appena spawnato come Kaiser fa a curarsi dal sanguinamento Non può Muore, basta Ma c'è adesso, indovino cosa ho trovato io Cosa hai trovato? La motosega Bravo, io invece ho trovato quattro paia di binocoli E sto morendo di sanguato Ho trovato anche dei mattoni Ma tanto morirò di sanguato lo stesso Vado a morire di sanguato qua in quest'angolo Ma no, mi si è fermato il sanguinamento al 2% Mi sta prendendo in giro cosa? Ero là pronto per morire E invece no E non ci sono più neanche zombie da ste parti Ma che cribbio Prendiamo dei chiodi No, volevo prenderle E non una prima Tra l'altro Marco, sai che sono già 19 minuti e 41 secondi Anzi anche più di 41 nel momento che l'ho detto Allora mi sento che conviene Ti conviene Sai cosa? Propongo Marco di caricarli separatamente Cioè tu carichi il tuo e io carico il mio Anche perché siamo stati praticamente sempre separati Dalla nascita Siamo stati separati dalla nascita Eh? E ho trovato altri Non fanno proprio Meno capisco un Kaiser di quando parli Parli sempre troppo piano Sono morto Per me possiamo anche chiuderla così Cioè tanto sono morto Quindi GG 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 Bro ho trovato uno nudo Ciao pizzo nudo Ti ha salvato Ciao Io posso staccare? Sì Salutiamo? Poi se tu vuoi continuare a registrare No non voglio registrare Ho salvato il tizio nudo E sono contento Così Intanto Marco salva sempre tizio nudi Sia in Saints Row Che in Antarned Io mi farei qualche domanda Ragazzi fossi in voi Ti ricordo che anche tu hai salvato un tizio nudo Sì ma io non ho intitolato l'episodio Salviamo il tizio nudo Vabbè Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Io vi invito a lasciare un mi piace E iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto A lasciare un commento Per dirci se per caso vi interesserebbe una nuova serie Partendo da capo con il nostro Marco 88 In un server nostro E... Boh Ci vediamo nel prossimo episodio Qui sono di server Eh? Ciao a tutti Di server quello Sì Ok Dai Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti